Augusta trovata con 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, arrestata una donna. Nella mattinata di ieri, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nel territorio megarese, agenti del commissariato hanno arrestato una donna di 50 anni, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spazio di droga. Gli investigatori notavano che l'arrestata aveva avviato una fiorente attività di spazio presso la propria abitazione, riscontrando un sospetto andiriviene di persone. Pertanto, dopo attente osservazione, gli agenti del commissariato notavano una donna a bordo della propria autovettura a tornare a casa a forte velocità e malcelando un evidente nervosismo. Gli investigatori decidevano di intervenire e bloccavano la cinquantenne trovandola in possesso di 20 grammi di cocaina e della somma di 340 euro, probabile provento dell'attività di spazio. Da una successiva perquisizione domiciliare, gli uomini diretti dal dottore Migliorisi rinvenivano e sequestravano un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Al termine delle incombenze di legge, la restanza è stata posta ai domiciliari.